ciao amiche buongiorno guardate che bella giornata qui le gemme degli alberi sono decisamente spuntate oggi è proprio primavera ieri e l'altro ieri sono state due giornate bruttissime di pioggia continua sembrava di essere nel bel mezzo dell'inverno invece oggi è una giornata spettacolare veramente tutta la città è limpida lavata dalla pioggia il cielo è azzurro e questo mi fa venire in mente quella bellissima poesia di alber camus che dice nel bel mezzo di un gelido inverno scoprime un'invincibile estate o una cosa del genere le parole non sono esatte comunque la poesia è meravigliosa e si adatta bene a questo periodo andate a leggerla cercatela perché è veramente meravigliosa ciao un abbraccio a tutte